Figlio dei comici Gaspare Pieri e Giuseppina Casali, esordì in tenera età nella compagnia del padre associata a quella di Cesare Dondini. Dal 1875 militò come, secondo Brillante, in varie compagnie. Tra queste vi figurano quelle di Gaspare Lavaggi, Adelaide Tessero e Alamanno Morelli. In quest'ultima compagnia assunse il ruolo di Primo Brillante, nel 1883. Dal 1884 al 1887 fu capocomico in una propria compagnia teatrale, in cui vi entrò a far parte anche l'attrice Emilia Liprandi, che sposò nel 1882. Successivamente creò un'altra compagnia con Luigi Ferrati nel 1894. E dopo questa esperienza, ritornò allo ruolo di, generico, militando prima nella compagnia dei Brillanti, dal 1895 al 1897. E in seguito nella compagnia di Ermete e Zacconi e poi in altre. scritturato dalla Tesfi Film di Roma nel 1916. Da allora Pieri si dedicò esclusivamente al cinema ed esordì nello stesso anno nel film La Laude. Della vita e la laude della morte. Prima produzione della casa. Come attore cinematografico fu attivo fino al 1924. in quasi 40 pellicole, e collaborò con altre case come la Caesar Film, la Gloria Films, l'Italafilm e la Fete Film.